Io sono venuta qui oggi soprattutto a dire grazie, a dire grazie a nome dell'Italia per aver scelto di indossare una divisa, grazie per aver capito che indossare quella divisa significa saper usare tanto la testa quanto il cuore, grazie per aver studiato perché sapevate anche che indossare quella divisa impone professionalità e competenza, grazie per aver accettato di venire fino qui in Libano dove da decenni le nostre forze armate costituiscono un pezzo fondamentale della missione Unifil, una missione che per la nostra nazione è indispensabile in una terra che è culla di grandi civiltà che per molto tempo è stata anche un modello nella capacità.